Breve e veloce video per informarvi che da oggi purtroppo i video di Yoke Watch saranno senza musica e solo con effetti audio perché YouTube mi reclama i video come copyright di Mouth of War dei Pantera è una cosa che non sta né cielo né in terra che un video di Yoke Watch mi fa un claim di copyright per un video dei Pantera e se continuo a caricare video così con questo problema di copyright YouTube mi blocca i video e non li fa vedere quindi mi tocca o trovare una soluzione alternativa e comprare sta cavolo di canzone Mouth of War e quindi ovviare al copyright oppure mi tocca eliminare l'audio di Yoke Watch che credo sia la soluzione più adeguata potrei trovare una via alternativa vedrò come va il prossimo video quello di oggi è con l'audio il prossimo provo a caricarlo con un altro metodo e se funziona avremo ancora l'audio se no mi tocca eliminare l'audio perché non posso fermare una serie a metà per colpa di un copyright che non sta né in cielo né in terra vediamo come va io intanto vi ho avvisato spero nel meglio vediamo come va io intanto vi ho avvisato un altro metodo a caricarlo con 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 un altro